salve brava gente eccoci qua ritrovati su destron empire e oggi parliamo ancora dei nostri amati master of the universe e oggi parliamo di evillin la versione master of universe liberation qua vedete davanti a me a destra evillin la versione origins e nelle due versioni quella anime color e quella che mi piace più di tutti mentre la versione quella quella pelle gialla il vestito blu l'ho appiccicata la parete questa ottima come versione anche se un po ormai le giunture che sono un filino ammorbidite e qua abbiamo a sinistra evillin nella versione master verse ma ormai è una cosa famosissima non c'è bisogno che ne parli io sapete benissimo la versione master verse fatta su netflix è una serie animata originale che a pareri molto contrastanti io netflix non ce l'ho di fargli fare soldi non ho neanche tanta voglia per cui non ovviamente non posso giudicare nella serie revelation nella serie di transformer quella che fanno computer graphics sinceramente ma non avrei neanche tempo di guardarmelo netflix per cui e di fargli preferisco spendere soldi per da zone piuttosto che spenderli per netflix e per cui niente non posso giudicare la serie io giudicherò solamente lo scalp della figura va detto che purtroppo io della serie classic ho pochissimo perché sono tornato nel mondo di master universe con la serie origin io prendevo le statue ce l'ho quella della side show e adesso del eccolo che adesso sono della della twitter ed c'è scheletro evillin e ortak però per quanto riguarda i toys sono tornati in questo mondo purtroppo abbastanza di recente per cui la serie ori alla serie classic proprio per me niente lo vedo solamente nel megalibro nella mega enciclopedia di pixel dan però purtroppo di quella serie c'è solamente scheletro e coso e color full e basta per cui se uno vuole come me e non la serie classic che adesso costa a prezzi pazzeschi vuole delle figure con una proporzione che siano beh un attimino più proporzionate più per adulti se vogliamo come scala dei personaggi e ne vuole un attimino più grossi e c'è non ha molta scelta o è questo e questa poi ci sono le bellissime figure della mondo stifetenti che le fanno andare super sempre subito sold out e sono scala 6.1 ma sono molto costose e riescono ogni morte di papa ecco adesso dovrebbe uscire ordak vediamo benissimo adesso per prima cosa ci vediamo la scatola ma ormai questo la conosce tutti a memoria questa serie è scritta della serie qua evilline netflix qua in altro master verse non master e lasciamo perdere vabbè che un personaggio femminile evilline la grafica qua molto bella di evilline e poi qua abbiamo sempre la questa bellissima immagine di evilline con dietro anche tutti i personaggi in vendita nella prima nella prima web i men most men ovviamente evilline e poi goblin ah no scheletro scusate lo scheletro sembra veramente il goblin quello dell'uomo ragno scusate più forte di me va bene adesso dai e poi vabbè alla fine aveva detto che è un po' irregolare la parte bassa della scatola come la concezione di queste scatole qua somigliano molto secondo me è un'idea mia alle scatole della serie transformer siege kingdom eccetera eccetera dai possiamo aprirla via la parte bassa della scatola come la parte bassa della scatola come la parte bassa che è un po' irgiare benissimo e come vedete è facilissimo perché qua è fermato solamente da un punto qua che c'è dove c'è lo scotch e poi basta basta aprire qua si apre tutto senza problemi dove aprire il fondo eccetera vediamo che abbiamo questa scatola con dentro questo cartoncino con una specie di marmo qua che sembra una di quelle stage che trovate dentro la scatola se prendete gli transformer stadio series è abbastanza simile così potete mettere qua il vostro personaggio con dietro questo sfondo se volete eccetera giochicchiarci un po' poi abbiamo il blister con dentro ai villini che ha questo blister protettivo qua e sopra che può essere tolto tranquillamente perché non ha né scocciature né niente per cui se siete quelli che si divertono a giochicchiarci poi rimetterlo nella scatola o se volete giocarci un po' poi vi siete rotti le scatole decidete di rivenderlo e rivenderla non c'è nessun problema anzi a me devo dire che i blister così mi piacciono anche va detto che la scatola in se stessa non ha il fascino del dei master hobby di universo e quelli vintage o gli origin da bella da appendere alla parete quello no io qui non lo farei e adesso ci studiamo bene la nostra amatissima Evelyn che è uno dei personaggi uno dei miei personaggi preferiti allora abbiamo devo dire che per una figura che costa sui 21 22 dollari in america hai il Evelyn ok poi hai altre quattro mani c'è in totale di sei che già un numero molto notevole poi una testa sostitutiva hai questa borsetta che è più pallida di cosa sia e più un altro bastone magico la versione lunga è quello di Evelyn se vogliamo stare al vintage effettivamente diciamo che una via di mezzo perché Evelyn con la versione classic è così è un po' una via di mezzo come bastone magico questa abbiamo la versione short e la versione molto lunga la versione molto lunga diciamo così la possiamo trovare nella statua che ha buttato fuori la side show di Evelyn che aveva uno magic staff molto molto lungo che ricordava un po' quello di Skeletor ok adesso tiriamola fuori ed ecco qua la nostra Evelyn tirata fuori dalla scatola la nostra amatissima strega che tra l'altro oggi non c'entra niente ma per puro caso questa recensione la sto facendo il 6 di gennaio il giorno della Befana mai nessuno vuole dire che Evelyn non è una Befana una bellissima donna attraente ma così qua potete vedere a sinistra la versione Masterverse mentre a destra la versione Revelation mentre a destra la versione come si chiama Origins vediamo come size abbiamo Evelyn nella versione Revelation che è 17 e mezzo mentre nella versione come si chiama qua classic che sono 14 e mezzo di centimetri cioè la differenza in centimetri in realtà sono tre centimetri non è che sia poi questa differenza incredibile però vedete che le proporzioni sono completamente diverse anche perché poi il vestito è diverso tante cose ovviamente la differenza della proporzioni diventerà ancora più accentuato per le figure maschili che nella versione Origins come quelle che piacciono a noi sono bellissime ma sono tozze è loro bello ma sono tozze mentre nella versione questa qua più realistica sono più oblunghe più slanciate ok adesso andiamo a vederci la nostra Evelyn da vicino a me comunque ha fatto veramente fa veramente un'ottima impressione perché è un viso con uno sculpt veramente di eccezione e io quando parlo di toys e a me piace fare sempre il rapporto fra il prezzo e quello che tu hai in mano si tratta di figure come dicevo economiche comunque si parla di 21 22 dollari e uno sculpt così è notevole notare a proprio la corona che in testa che ricorda veramente molto molto la versione classica e su un buon joint la testa può girare tranquillamente a 360 gradi è bello quando faccio le recensioni in italiano le faccio dopo le riprese in giapponese così già diventa un attimino più morbido prima quando faccio la versione giapponese a girargli veramente la testa c'era veramente da aver paura che ti rimanessi in mano invece no adesso no le braccia sono veramente molto molto snodate togliamogli il magic staff lei i post abbiamo rotazione completa ruota anche il gomito è molto snodabile ecco su queste figure revelation notiamo che le giunture purtroppo si notano e risultano un attimino innaturali però purtroppo per le figure umane così poi la giuntura qua delle spalle è come nella versione origin qua sotto per cui si nota abbastanza poco c'è anche la rotazione qua sotto la spalla e sopra il bicipite c'è anche una rotazione qua che non è che non è male molto molto snodata c'è un bel head crunch qua all'altezza del seno poi si ruota completamente qua anche i fianchi cioè sono veramente di uno snodato pazzesco queste figure qua per quanto riguarda le gambe abbiamo qua questo il vestito che in questa gomma morbida tra virgolette perché abbastanza duretta le gambe ovviamente si muovono ma vanno un po a cozzare contro il vestito le quelle giunture delle ginocchia che fanno un po impressione perché sono quelle che quando tu le pieghi dici minchia adesso mi rimane la gamba in mano non so perché a me danno quell'impressione lì come giunture mi sembra che quelle della serie origin sia un attimino più robuste qua bisogna magari starci un attimino attento ma sono magari pareri e timori che sono miei e basta ecco io ho visto che abito in giappone lì mi viene subito automatico confrontare queste figure con quelle della bandai le figlie arise eccetera con i dragon ball di qua di là eccetera come qualità mi sembra che sia un attimino questo un gradino più basso anche se abbiano degli scalpi che sono bellissimi però ho detto anche come prezzo costano di meno costa più costa meno della metà per cui è ovvio che su quello non si può dire nulla anzi fare un rapporto qualità prezzo tra queste e quelle della bandai magari queste guaniscono anche vincitori e e poi così no beh ottimo si muove anche qua così il piede l'articolazione del piede non di lato purtroppo solamente davanti dietro si muove anche all'altezza dello stivale ma veramente buono buono buona articolazioni ottime scalpi notevole ripeto si vedono un po quale giunture è quello è un qualcosa che bisogna stare attenti magari quando si mette in posa in modo da far sì che non si noti troppo ecco ecco qua evillin nel final verso una versione alternativa c'è col viso quello senza senza tiara col bastone magico quello lungo e con la borsetta qua a tracolla beh va detto che questo viso a me non dispiace so che è stato molto criticato questo viso perché insomma non è poi poche villini di qua di là ma da un punto di vista così è oggettivo vedendo a me non è che dispiace come viso mi ricorda cioè i capelli bianchi probabilmente si ispira alla serie rifatta dei master se non sbaglio il 2000 del 2001 dove i capelli bianchi ma corti evillin con i capelli così lunghi non l'ho mai vista però effettivamente ci può anche stare adesso non so perché mi è venuto in mente rady che nel guerriero da medillino personaggio donna e poi anche questa borsetta qua tracolla all'inizio mi sembrava molto strano beh messa qua così non è che da tanto poi fastidio ci può anche stare anche se insomma li apre frisco senso per questo mega bastone magico che può essere anche fare tenuto così a due mani fa anche la sua la sua porca figura la fa dai ma io ritengo veramente una discreta figura ecco veramente meglio di quello che mi aspettasse sinceramente il problema sono un po le giunture sta su veramente in piedi con lo spirito santo e il problema un po sono ovviamente i piedi sono piccoli ovvio che ha di equilibrio pecchi ma sono qua le cinture dei piedi qua delle ginocchia che in alcuni punti sono dure e alcuni punti sono morbidissime sono frosce per cui è ripeto è una figura economica fatta bene che bisogna dal punto di vista visuale al suo punto c'è di impatto molto forte però nei minimi particolari effettivamente si vede che una figura sui 20 dollari ecco se vogliamo mettiamola di così visto che al due bastoni magici magici dentro alla fine prova di ritenere molte due e finisco qua il mio video ecco qua la nostra Evelyn super gasata con due bastoni magici e ci sta anche bene questo sfondo qua che troviamo dentro la scatola se devo dire è molto meglio di quello che pensassi ad essere messa così veramente un po in display bene ottimo 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 beh alla fine cosa c'è da dire che una figura che è meglio di quello che pensassi la serie animata non so com'è e non me ne potrebbe fregare di meno mi sa che adesso anche mi metterò piano piano il problema è che li paghi un sacco di soldi a farteli spedire qua a ordinare le altre anche specialmente quello di personaggi che mi piacciono ottimo ottimo tutto va detto poi vabbè dipende dipende uno cosa vuole se uno nostalgico appassionato veramente di masters sicuramente punta a questa serie se uno vuole qualcosa e non ha la serie classic vuole qualcosa un po più riadattata al ventunesimo secolo con proporzioni un attimino più realistiche si butta magari su questa serie non so fino a quando la faranno perché la serie revelation mi sembra che non abbia non abbia così tanto seguito comunque dai vediamo direi benissimo grazie per la visione ci vediamo ai prossimi video grazie grazie ciao ciao da l'estronempire ciao a tutti brava gente